Musica Benvenuti in un nuovo servizio speciale da Bologna in occasione del terzo congresso sul manager control orthopedics per quanto riguarda la tramotologia della mano e del polso. E' un evento organizzato da Vi Eventi e Formazione, voluto dal dottor Roberto Urso e patrocinato dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano. E' il segretario di questa società scientifica, il dottore Giancarlo Caruso, che saluto e ringrazio e il benvenuto. E c'è fondamentalmente un lavoro notevole che viene svolto dalla vostra società scientifica, dottor Caruso, a livello didattico, ma anche di compilazione delle best practice e delle linee guida. In cosa consiste questa attività? Consiste in questo. Intanto grazie per l'invito. Il lavoro che fa la nostra società scientifica, che ha iniziato a fare diversi anni fa, è quello di adeguarsi alle nuove normative previste dalla legge Gelli Bianco 24-17, che ha posto tutta una serie di problematiche di fronte alle quali le società scientifiche si sono dovute adeguare. Lo scopo di questa legge è quello di facilitare la produzione, in questo contesto, delle cosiddette linee guida o buone pratiche. La società scientifica nostra, la società italiana di chirurgia della mano, ha cambiato in tal senso lo statuto e il regolamento per mettersi in regola e per diventare una società scientifica che potesse essere in grado di produrre delle linee guida e delle buone pratiche. Questo è uno proprio dei criteri di accreditamento per le società scientifiche, al fine di avere un maggiore peso da un lato e da un altro lato di produrre queste indicazioni che servono anche per motivi medico-legali nel decidere e nell'affrontare le controversie per risolverle. E a proposito, siete intervenuti anche per favorire l'attività peritale, in che termine? Esattamente. Sempre in ottemperanza alla legge 24-17, la SICM, in accordo anche con la SIOT, ha fornito tutta una serie di elenchi di soci SICM con determinate caratteristiche, quali l'esperienza, l'autorevolezza, il tipo di attività svolta, che potessero aiutare i tribunali, i giudici e anche i periti dei tribunali a dare delle risposte obiettive nei confronti di alcune controversie che purtroppo, come tutti sappiamo, vedono coinvolti medici nell'esplettamento delle loro funzioni. In questo senso, proprio la Commissione Medico-Legale della SICM, in questi anni, ha svolto questa attività di selezione e di adeguamento di questi elenchi che sono stati inviati alla SIOT, Società Teleni Ortopedia e Traumatologia, e anche a tantissimi tribunali italiani. Oggi, Dottor Cavuso, ci si è soffermati molto sulla collaborazione non solo tra province, ma anche a livello di regioni, quindi una collaborazione cross-territoriale per quanto riguarda l'approccio da seguire rispetto alle problematiche polso-mano. Come valuta questo genere di collaborazione tra le strutture? Perché noi abbiamo l'impressione che si tratta di qualcosa di estremamente virtuoso. Sì, la collaborazione è fondamentale. La mappatura dell'Italia sulla base delle competenze dei vari centri di chirurgia della mano è indispensabile proprio per offrire ai cittadini che incorrono in gravi traumatismi, più o meno gravi, di avere la loro giusta collocazione e il loro trattamento che deve essere corretto e deve essere assolutamente idoneo e conforme agli standard non solo italiani ma anche europei. Per concludere, quali saranno i prossimi progetti della vostra società scientifica? La società scientifica nostra ha molti progetti, tra i quali i più importanti riguardano sicuramente la valorizzazione della chirurgia della mano, perché purtroppo negli anni precedenti la chirurgia della mano prima era una specialità vera e propria, con una serie di riforme fatte in alcuni paesi europei, la chirurgia della mano ha assunto delle caratteristiche un po' diverse e quindi non è più una vera e propria specialità, quindi uno dei nostri progetti è quello di valorizzare la nostra branca e nello stesso tempo questo può essere fatto solamente con un impegno importante che riguardi la diffusione delle notizie che riguardano la nostra attività e anche con la formazione, che è un punto cardine dello sviluppo della nostra società scientifica. Io la ringrazio molto per aver condiviso con noi il suo tempo e le sue informazioni, il dottore Caruso. Grazie a voi. Grazie, abbiamo parlato con il dottore Giancarlo Caruso, segretario della società italiana di chirurgia della mano nell'ambito del congresso voluto dal dottore Urso e organizzato da Via Eventi e Formazione. È davvero tutto, grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.